Siamo in questa mattina, siamo in privato, sì, perfetto, ok, facciamo un'a domanda risposta, allora, ultimamente stiamo facendo molte cose, sì, eccolo qua, allora, perfetto, ok, bene cari amici, salve, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, siamo felici di tornare nuovamente con voi in un nuovo video, nello specifico a domanda risposta, bene, in questi giorni stiamo, come dire, sfornando, concedeteci questo termine poco ortodosso, sfornando molti video perché siamo in ferie, bene, e quindi, diciamo, sotto le ferie abbiamo più tempo, quindi possiamo dedicarci di più ai video, gloria a Dio per questo, benissimo, allora, fammi vedere un pochino come si vede bene, sì, perfetto, allora, bene, quindi vogliamo dedicare anche questa volta un video a domanda risposta, perché, perché tutto sommato è in tema, è in tema per, come dire, per molti, molti, molti motivi, allora, intanto noi abbiamo già fatto, abbiamo già fatto un video dove abbiamo trattato questo argomento ben nel 2013 e poi sarà, come dire, cura nostra, metterlo sotto in descrizione il link, così potrete visionarlo. Quindi esiste già un video dove noi, appunto, parliamo di questo. Ora, però, si rende necessario fare un secondo video perché la domanda che ci viene posta, nello specifico, possa sul messianismo, quindi da una parte abbiamo, come dire, trattato questa cosa alla luce, diciamo, solo della filosofia, quindi dell'agnosi, ma, essendo la domanda rivolta nei confronti del messianismo, dobbiamo allargare, come dire, il tutto. Questo perché, per quanto riguarda lo pseudo, diciamo, messianismo e l'agnosi, hanno, come dire, molte cose in comune. Quindi è bene che l'ascoltatore possa conoscere queste tematiche in maniera tale che, conoscendo, possa individuare dove sta l'errore. E poi andremo a coronare il tutto leggendo la scrittura e vedendo esattamente come stanno le cose, perché noi sappiamo che le persone prendono un verso fuori dal contesto e gli fanno dire quello che vogliono. Bene, ma vando, come dire, alla prefazione e vogliamo passare alla domanda. Allora, la domanda è questa. Ve la facciamo vedere. Eccola qua. Questa è la domanda. E quindi c'è questo anonimo. Noi ricordiamo sempre che non riveliamo mai il nome di chi ci scrive. Mai. Manteniamo sempre, come dire, l'anonimato. Sia degli amici, sia dei fratelli e anche dei nemici. Benissimo. Quindi l'anonimato non si tocca. Ricordiamo altresì che sono diversi quelli che ci scrivono, quindi il tempo di attesa può essere anche molto lungo, può arrivare anche a 30 giorni. Ricordiamo altresì che sono pochissimi quelli che, dopo averci iscritto, ricevono una, come dire, una risposta tramite il video. Sarà, saremo noi a deciderlo. Chiediamo cortesemente, non ce lo chiedete voi, perché poi dopo, magari, se non vi rispondiamo tramite il video, poi magari potreste rimanere male, insomma. È solo per questo. Non abbiamo, non possiamo proprio, come dire, fare una cosa del genere, perché veramente siete, non siete, insomma, proprio pochissimi quelli che ci scrivete. Bene. Allora, la domanda recita quanto segue. L'anonimo ci chiede, questa persona, voglio proprio mantenere il massimo dell'anonimato, questa persona, che gli è cara, insomma, alla persona che mi sta scrivendo, questa persona sta seguendo degli ebrei messianici. Noi già abbiamo fatto molti, molti video sugli ebrei messianici, e già abbiamo detto che la maggior parte dei movimenti messianici, ok, non sono veri. Quindi un buon 90% nel mondo, cioè la cifra è altissima, il 90% degli ebrei messianici non sono neanche ebrei. Fantastico. Cioè, incredibile. Incredibile. Quindi già partiamo male. Poi, di quei invece ebrei veri, che veramente sono ebrei veri, che ci sono, assolutamente, ma di questi, quelli che veramente osservano la parola di Dio come si deve, sono pochissimi. Quindi, alla fine, c'è veramente un qualcosa di terribile che si sta concretizzando. Poi accenneremo qualche cosa, finita la domanda. Quindi sta seguendo questi ebrei messianici. Ora, non mi piace molto quello che gli stanno insegnando, e te credo. Ad esempio, dicono che, per ottenere qualche cosa, bisogna dichiararlo ad alta voce. Conosco perfettamente tutto questo meccanismo, infatti, te ne parlerò. E citano Matteo, Giacomo, riguardo al potere della lingua. Ok. Quindi potresti indicarmi un video che hai fatto in proposito per confutare questa dottrina. Allora, il video si troverà in descrizione. Oltre questo. Inoltre, noi parliamo noi denunciamo il tutto. Poi, chi deve operare è il Signore. Chi opera è lo Spirito Santo. E, a sua volta, lo Spirito Santo non obbliga nessuno, perché esiste anche il libero albedrio. Però è che il Dio, ora non voglio troppo entrare in questo, perché è sulla. Il Dio ci costringe, come ha costretto Giona, no? A fare una determinata cosa, certo. Ma nel suo costringerci, attraverso determinate situazioni, non annulla mai il libero albedrio. Per esempio, Giona era già col cuore predisposto verso Dio. Cioè, lui voleva il Dio, lui amava il Dio. Abbiamo fatto un video dedicato. Quindi, sì, Dio viene sempre, cerca, in tutte le maniere, di salvare il peccatore. Tant'è che è morto per noi, per tutti quanti. Non c'è, non ci sono alcuni pochi predestinati. No, tutti, tutti possono entrare nella salvezza in Cristo Gesù e il Signore vuole che tutti vengano alla salvezza. Però, se uno si ostina a non voler ascoltare la voce di Dio, poi Dio ti lascia al tuo destino. Quindi, cosa puoi fare tu? oltre che a mostrare questo video, dopo quando lui l'avrà ascoltato, se dovesse indurire il suo cuore, tu l'unica cosa che puoi fare è pregare. Questo sì, pregare. Insistentemente, come scritto, molto può, la supplica del giusto fatta con efficacia. Amen. Gloria a Dio. Perché è il Dio che fa l'opera, ma a sua volta il Dio. rispetta anche il, come dire, la persona, l'ostinatezza della persona. Ma, ahimè, non venga mai meno in noi la nostra fede. Noi comunque combattiamo fino alla fine. Bene, perché Dio resta sempre il Dio. Insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso vogliamo passare a noi. Allora, il punto, il punto della della situazione è questo. Allora, vogliamo aprire qui? No? Allora, intanto vi voglio accennare che sul pianeta Terra, in questo momento, trovandoci previo al rapimento della Chiesa, si sta per manifestare l'Anticristo, stiamo per entrare nel giorno del Signore, il diavolo va come leon rugente cercando chi possa divorare. In questo momento c'è in atto una grandissima persecuzione nei confronti del cristianessimo. Ora, per esempio, in Cina, ok, il, come dire, il dittatore di turno sta facendo chiudere chiese, sta perseguitando i cristiani, i pastori li mette in galera, addirittura, dice, non so, non ho controllato bene l'attendibilità della notizia, ma c'è un giornale francese chiamato Efigarò che dice che questo dittatore cinese vuole fare niente meno che riscrivere la Bibbia, riscrivere la parola di Dio. Bene, pensate che persecuzione c'è in Cina, ma non solo in Cina. la persecuzione si trova anche qui in Occidente. Noi siamo perseguitati attraverso una infinità di infiltrati, ne abbiamo già parlato, abbiamo una infinità di pseudomessianici che alcuni di questi addirittura sono veri veri rabbini che stanno facendo il doppio gioco, cioè si fingono essere messianici quando non lo sono. È incredibile, c'è di tutto, c'è di tutto. Quindi veniamo grandemente perseguitati, veniamo perseguitati anche dai gnostici, quindi dai massoni, dagli, insomma, dai, nelle nostre stesse file ci sono una marea di infiltrati, insomma, ma li riconoscerete attraverso i loro frutti. Ok, il primo frutto, i primi frutti sono, il primo frutto è la fede, cioè se tu credi a quello che c'è scritto, no? È inutile che tu fai le buone azioni, le buone opere, dai da mangiare ai poveri, questo lo sanno fare tutto, tutti, perfino i satanisti lo fanno, no? Non è questo, ok? È credere a quello che c'è scritto. Quindi, se tu dici di essere nato di nuovo e non credi a quello che c'è scritto, non pubblichi quello che c'è scritto, non difendi quello che c'è scritto, non vivi quello che c'è scritto che non è solo vivere una determinata cosa, ma è vivere tutto, tu non sei nato di nuovo, punto, punto, questo è quanto. Poi, andiamo avanti. Allora, in questo video io vi dirò esattamente quello che è successo nell'antichità, perché per capire quello che sta succedendo nel messianismo, ovvero nello pseudomessianismo di adesso, di la parola, di la parola, pronuncia la parola, dillo a alta voce, ok? E la cosa si concretizzerà. Benissimo, questo nel, come dire, nel giudaismo è molto comune, ma è roba vecchia, è roba molto vecchia, che ha a che fare con molte, molte situazioni, cominciando dalla Gnosi, dal V secolo avanti Cristo, quindi passando poi per, continuando con la Kabbalah, con la Torah orale, con il Talmud, che è appunto la Torah orale, ecco qui la parola, la Torah orale, la parola pronunciata, quindi con la filosofia e con la metafisica. Tutto questo, filosofia, metafisica, Torah orale, Kabbalah, Gnosi, tutto questo è un solo discorso con più facce. Quindi, per capire quello che sta succedendo, noi dobbiamo conoscere tutte queste cose. e in questo video, vi esporremo in modo molto prammatico, il più semplice possibile, tutte queste cose che poi, tra l'altro, conoscere è anche, oltre che necessario e importante, è anche interessante, tanto più che noi lo faremo, come dire, utilizzando, insomma, il linguaggio più semplice possibile. Allora, dobbiamo comprendere, come già detto, in molti video, che la colonna portante dell'ognosticismo è la filosofia. È la colonna portante. Infatti, l'ognosticismo si trova già molto prima, come dire, della nascita del cristianissimo. Si trova molto prima. Infatti, noi vediamo che cos'è gnosi, cos'è gnosticismo. Gnosi, gnosticismo, al di là delle tantissime scuole di pensiero, le une contrapposte con le altre, che si sono fatte pure la guerra, con tanto di mazzate, altro che interazione tra di loro, ma le botte che si sono dati, solo Dio lo sa. Quindi, al di là delle tante scuole di pensiero, gli insulti, le minacce, chi più ne ha, più ne metta, e il fatto che quattro gnosticini vadano d'accordo, ciò non toglie il fatto che ce ne sono decine di migliaia che si ammassano tra di loro. È come si sono ammazzati tra di loro nei secoli. Vedi, la stessa massoneria che è gnosticismo puro, ma questa è un'altra storia adesso. ora, la, praticamente, essendo la filosofia il motore portante di tutti questi mondi bui e oscuri, dobbiamo vedere come, come, come nasce tutto, ok? Perché, per sommi capi, l'ognosticismo dice io sono la via a me stesso, la verità si trova dentro di me, quindi la salvezza si trova dentro di me, quindi io sono una sorta di salvatore di me stesso, ecco qui, io sono una sorta di Dio, io sono Dio. E poi, per supportare, vanno a prendere un po' di verità ovunque, compresa la parola di Dio. Infatti, tu noterai che nell'agnosi citano molto la parola di Dio, ovviamente decontestualizzandola, ovvero, andando a prendere quei versi che gli interessano, no? Tipo, guarda, qui c'è scritto voi siete dei, quindi noi siamo dei, quindi loro prendono quello perché gli interessa, gli fa comodo, ovviamente lo decontestualizzano, tutto il resto lo scartano, quindi, questo si chiama sincretismo, prendono un po' di Bibbia, un po' di filosofia, un po' di induismo, un po' di buddismo, un po' di vatte la pesca, fanno tutto sto minestrone, questo si chiama sincretismo, e poi fanno una propria dottrina sempre orale, sempre orale, praticamente, di scritto, hanno poco e nulla, bene, ora, l'ascoltatore si chiederà, che c'entra tutto questo col messianismo, con la domanda, col fatto che io dico la parola e la cosa avviene, è da qui che parte tutto, amico mio, è da qui, ovvero, non è detto che sia da qui che parte tutto, ma già da qui, intanto cominciamo a vedere una parte dove già questo esisteva, perché poi la Kabbalah è roba vecchissima, anche se è stata riscoperta recentemente, tra virgolette, diversi secoli or sono, eccetera, 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 ma tutto questo, Gnosi, Kabbalah, filosofia, metafisica, Torah orale, e chi più ne ha più ne metta, sono un mondo unico, ciascuno, con le proprie caratteristiche. Allora, dobbiamo partire con la triade, la triade della filosofia, la triade della filosofia inizia con tre personaggi, triade, Aristotele, Platone, no, scusate, Socrate, Platone, Aristotele, Socrate è stato il primo, Socrate ha partorito, ha generato Platone, che è stato appunto discepolo di Socrate, subito dopo, come dire, a cavallo, subito dopo, troviamo Aristotele. Ok, quindi, Socrate è il primo, innanzitutto, è considerato il motore portante, la base, il fondamento, il pilastro, diciamo, di tutto quanto, ci troviamo intorno al 470 avanti Cristo, quindi 470 fino al 399 avanti Cristo, Socrate. Bene, Socrate, come già detto, è il, è la colonna portante, Socrate è quello che praticamente ha gettato le fondamenta per molte cose, è considerato, diciamo, da molti l'Olimpo, da altri, no, però, insomma, Socrate certamente è una figura importantissima. Benissimo. Allora, tenete presente che Socrate partorisce come discepolo Platone e se non vado errato Platone è stato il maestro di Alessandro Magno. Vado a memoria, credo che sia stato Platone, no? E ecco perché poi Alessandro Magno insomma ha fatto quello che ha fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qual è il pensiero di Socrate? Allora, il pensiero di Socrate è molto importante conoscerlo perché se noi non conosciamo queste cose non riusciamo a identificare il nemico numero uno della sana dottrina, nero su bianco. Socrate dice la filosofia che cos'è? Beh, la filosofia è insegnamento e che cos'è l'insegnamento? L'insegnamento de che? L'insegnamento è appunto dare conoscenza, la conoscenza ovvero promuovere la conoscenza, portare la conoscenza, insegnare la conoscenza, la conoscenza de che? Della verità. Somma, sommamente la verità parole belle, certo, e allora Socrate dice quindi io faccio filosofia, quindi cerco la la conoscenza, la conoscenza e capire dove è la verità. Ora, per capire dove è la verità, dice Socrate, io devo cercarla dove sta la verità, non posso cercare la verità dove essa non vi risiede, quindi devo andare nel posto giusto, altrimenti rischio di fare un naufragio e quindi Socrate capisce, dice lui, ovviamente, capisce che la verità si trova dentro di noi, dentro l'uomo. Ecco qui l'agnosi. Siamo nel 470 avanti Cristo, quindi quinto secolo avanti Cristo, ragazzi. altro che no, l'ognosticismo nasce dall'ognosticismo già c'era 500 anni avanti Cristo, caproni che non siete altro, ce l'ho con i gnosticini e gnosticioni di turno alla Mauro Bellino. Quindi, la verità è dentro di noi. Ora, io però devo trovare questa verità, la devo cercare questa verità che è contrapposta a questa verità alla doxa, quindi all'opinione o al credo che dir si voglia. Quindi, la verità per trovarla devo appunto andare dentro di me, quindi come faccio? Eh beh, devo fare una indagine dentro di me, dentro me stesso, devo indagare e non è una passeggiata di salute, non è che con 5 minuti, no, ecco perché non tutti loro dicono la trovano, perché è un percorso che bisogna fare, questo percorso dura una vita. Quindi, fare filosofia per Socrate equivale appunto a ricercare la verità. La verità risiede unicamente e solamente e tassativamente per Socrate dentro l'uomo, quindi per Socrate è di vitale importanza dialogare con se stessi e con gli altri, dialogare, parlare, cercare nuove esperienze, parlare con gli altri delle proprie esperienze, valutare queste proprie esperienze, eccetera, 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 facendo così si cresce, si matura, si trova la verità. Benissimo. Ora, Socrate, è importante dire che non ne scrisse mai nulla. Noi troviamo gli scritti di Socrate perché ci sono stati dati da altri autori. In primis abbiamo gli scritti di Platone. Attenzione, ma di questo ne parleremo dopo perché per Socrate era di vitale importanza che la verità non fosse dinamica, cioè la verità non può essere messa nero su bianco. La scrittura non può essere la verità. Mai assolutamente mettere nero su bianco una verità perché se tu metti nero su bianco una verità, fermi la verità, metti un punto quando invece un punto fermo metti quando invece per Socrate ogni punto fermo non è altro che un punto di partenza. Ecco qui la prima contrapposizione che si va a concretizzare con invece la parola scritta, la Bibbia, che è un punto fermo dove appunto è stato messo un punto fermo parola nero su bianco questo è, questo è il canone dirà l'Apocalisse fino a cui arriva guai a chi aggiunge guai a chi toglie parlando appunto dalla Genesi all'Apocalisse quindi l'Agnosi dice no la la parola non può essere messa nero su bianco perché sarebbe un punto fermo mentre invece ogni punto fermo torno a ripetermi ogni punto fermo non è altro che un punto di partenza bene cosa fa invece il sia il giudaismo che lo pseudomessianismo fa la stessa cosa loro a parole dicono c'è un punto fermo che è la torra scritta ma a fianco la torra scritta c'è un'altra verità che è la torra orale che è il Talmud che è la Kabbalah e tutto questo vale di più addirittura della parola scritta anche se molti di loro negano questo ma molti rabbini dicono no non è vero lo dicono perché mentono ma de facto de facto è così tant'è che lo troviamo persino scritto nello stesso Talmud tant'è che io vi posso citare che sono anni che li ascolto una infinità di rabbini di Gerusalemme che insegnano proprio questo quindi noi cominciamo a vedere che c'è una certa interazione ok tra il mondo giudaico il mondo messianico pseudomessianico il mondo quindi gnostico ed è roba antichissima è roba vecchissima benedetto è il santo nome del santo signore quindi la filosofia è ricerca perché la scrittura se ci fosse la scrittura bloccherebbe questa ricerca interiore quindi tu non puoi non devi assolutamente mettere nero su bianco ecco perché Socrate non scrisse mai nulla cioè è stato coerente con il suo stesso insegnamento bene ora che succede Socrate muore perché viene giustiziato insomma c'è tutta la storia lui si farà giustiziare perché è stato un rivoluzionario insomma c'è tutta la storia e viene massacrato esce fuori Platone Platone essendo figlio di Socrate dottrinalmente parlando è della stessa linea di Socrate quindi Platone è come dire il proseguo di Socrate ora qualcuno dirà Platone ha scritto ha scritto molto quindi quindi Platone non era era contrario allora a quello che diceva Socrate no Platone non era contrario Platone era accondiscendente in tutto e su tutto il fatto che Platone abbia scritto lo ha fatto solamente perché le cose non fossero andate perse e in più per diciamo lui tutto quello che ha scritto oltre 30 dialoghi appunto sono dialoghi cioè lui non ha non ha messo nero su bianco una situazione dottrinalmente parlando ma lo ha fatto a forma di dialogo proprio come appunto Socrate aveva stabilito che la filosofia è ricerca della verità dentro se stesso e lo si fa attraverso il dialogo con sé stessi e con gli altri quindi ecco qui che noi troviamo che Platone scrive tutti i dialoghi e in mezzo a questi dialoghi non mi ricordo se sempre o quasi sempre comunque se non è sempre è quasi sempre troviamo diciamo come figura principale Socrate che porta determinati insegnamenti determinate verità ma lo fa a forma di dialogo bene questo è quanto quindi noi cominciamo a vedere un pochino il quadro dell'agnosi ecco qui l'uomo l'uomo è salvezza se stesso l'uomo è il centro a questo punto potremmo dire dell'universo perché lui è la verità lui è la salvezza lui praticamente poi dirà appunto l'ognosticismo è Dio a se stesso molto 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 semplice quindi abbiamo Socrate nel 470 subito dopo abbiamo Platone il suo discepolo e finito con diciamo con Platone si entra nel IV secolo avanti Cristo circa il 380 avanti Cristo esce fuori Aristotele e qui si va a completare il quadro e la triade Aristotele è molto importante per quanto riguarda la chiesa apostata di Gesù Cristo degli ultimi giorni perché oggigiorno abbiamo appunto gli scritti esoterici di Aristotele che poi successivamente verranno denominati metafisica la metafisica aristoteliana bene dove materia forma potenza e atto ok vengono inseriti in in un contesto chiamato appunto la metafisica sono circa dieci dieci scritti no che appunto Aristotele appunto metterà nero su bianco in queste in questi dieci dieci scritti lui troverà diciamo dieci categorie dell'essere queste dieci categorie andranno a determinare diciamo il tutto ovvero abbiamo la qualità abbiamo la sostanza abbiamo la quantità abbiamo il luogo la relazione l'agire il patire lo stato e così via discorrendo queste queste dieci qualità sono molto importanti per Aristotele interessante notare che quando si va nella cabalà troviamo praticamente un quadro molto analogo ecco qui filosofia greca e come dire filosofia giudaica pseudo messianica la cabalà parlerà delle dieci sefirot ora cominciamo a vedere molte interazioni tra tutti questi mondi bui e oscuri allora tutto questo poi per rispondere alla domanda tu dici la parola e poi la cosa avviene poi in virtù della parola detta della potenza che si trova in te ecco qui che materia forma atto e potenza di Aristotele oggigiorno la ritroviamo nella chiesa di Gesù Cristo non solo nella chiesa pseudo messianica ma anche nella chiesa pseudo evangelica pseudo pentecostale eccetera 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 allora vi elencherò solamente due termini che per farla breve allora noi abbiamo la potenza e abbiamo l'atto che cos'è la potenza la potenza è praticamente la potenza che si trova in una determinata situazione per divenire quindi da A passare a uno stato di tipo A a uno stato di tipo B e si porta al classico esempio dell'uovo l'uovo è un uovo ma in potenza cioè cosa può diventare un uovo un uovo può diventare un pulcino quindi l'uovo è un uovo ma in potenza è un pulcino ora il pulcino è l'atto cioè l'atto è la concretizzazione della potenza quindi dell'uovo quindi in l'uovo in potenza è un pulcino il pulcino è come dire l'atto dell'uovo quindi è l'atto della potenza quindi è la concretizzazione quindi teoricamente diciamo normalmente la potenza viene prima dell'atto perché prima viene l'uovo l'uovo e poi viene il pulcino quindi prima c'è la potenza e poi c'è l'atto normalmente è così ma in metafisica cioè oltre le leggi della fisica l'atto viene prima della potenza ecco qui che tutto questo viene preso dalla pseudo chiesa di Gesù Cristo dai pseudo messianici questo discorso esoterico appunto che tu dici la parola la parola è la verità l'abbiamo detto prima tutto nasce da Aristotele la parola la parola è la verità la parola la ricerca la parola che non viene messa nero su bianco vedete come tutto si va a concatenarsi la parola che non deve essere messa nero su bianco mai mettere la parola nero su bianco sempre bisogna andare a distruggere qualunque tipo di parola sia messa nero su bianco in primis la parola di Dio ecco qui che come dire quando gli conviene agli ignostici vanno a prendere versi a destra e a sinistra uno dei versi preferiti loro è quel verso che dice che la lettera uccide vedete è persino scritto che la lettera uccide ovviamente vanno a decontestualizzare questo perché come fa la lettera uccidere cioè non non edificare è chiaro che questo non significa annullare la lettera ma quello ha un significato molto chiaro ed esplicito nel contesto biblico che già ne abbiamo parlato da qualche parte non mi ricordo dove quindi praticamente la parola è la verità la parola è quello che ti dà la salvezza la verità si trova dentro di me ora questo viene preso altresì in metafisica quindi da Aristotele che ha detto questa prima cosa si passa no da Socrate che ha detto questa prima cosa si passa a Aristotele si prende la metafisica di Aristotele atto potenza ovvero potenza atto ma in metafisica l'atto viene prima della potenza quindi quando si dice io dico la parola in virtù della parola la parola sarebbe la potenza in virtù di quello che io dico ovvero della parola che io tiro fuori c'è l'atto c'è la la concretizzazione della parola cioè la concretizzazione della potenza io dico questa cosa e la cosa avviene ora in metafisica però la concretizzazione viene prima ecco qui che io dico la cosa e la cosa già c'è punto ecco qui praticamente questa pagliacciata aristoteliana della metafisica della della filosofia dirà Colossesi di fuggire alla alla filosofia no se io vado in Colossesi Colossesi Filoso eccolo qua lo faccio un pochino più grande no guardate che ne allora guardate che non vi sia alcuno che vi tragga in preda per la filosofia e va in inganno secondo la tradizione degli uomini secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo quindi tutto questo io dico la parola e vado a prendere un verso nella Bibbia nella parola di Dio che andrebbe a giustificare questa azione io dico la parola io decreto io ordino nella parola di Dio non troviamo mai che noi ordiniamo che noi decretiamo che noi diciamo la parola è così sia amenne no questo essere Dio questa è gnosi attenzione verità dentro di me questa è metafisica questa filosofia non è secondo la parola di Dio questa filosofia non è scritturale da qui quindi siamo passati quindi siamo partiti da Socrate quindi come dire dal mondo filosofico dal mondo greco abbiamo proseguito poi con Platone poi da Platone siamo passati a Aristotele abbiamo visto un pochino il quadro della situazione quindi la filosofia la parola l'annullamento della parola scritto la nascita della metafisica la potenza della parola l'atto la potenza eccetera 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 e poi passiamo adesso al mondo giudaico il mondo giudaico regge tutto quanto su due situazioni la prima situazione è la cabalà e la seconda situazione è il talmud ovvero il contrario la prima situazione è il talmud e la seconda situazione è la cabalà allora vogliamo parlare di cabalà la cabalà è il mondo esoterico del del giudaismo dove ci sono una infinità di marchigegni diabolici invocazioni di demoni invocazioni di angeli cose per ottenere determinate cose eccetera eccetera insomma c'è un minestrone satanico da paura considerate che la cabalà è il fondamento di tutte le logge massoniche del pianeta terra tutte hanno come come fondamento hanno la insieme a altre cose hanno anche soprattutto la cabalà molte lo ammettono altre lo nascondono ma de facto tutte hanno la cabalà quindi i riti cabalistici bene alcuni o diversi di questi riti cabalistici li ritroviamo nel talmud quindi noi nel talmud troviamo anche se poco però troviamo anche riti satanici ora come fa un libro del genere a essere ispirato da dio loro dicono no prendi il buono e lasci il cattivo sì certo io prendo la bibbia di satana prendo qualcosa di buono per dire che la parola di dio è verità secondo te questo è il volere di dio oppure prendo il catechismo cattolico prendo qualcosa di buono per convalidare la parola di dio ma la parola di dio non ha bisogno di nessuno per essere convalidata punto numero uno punto numero due comunque il talmud se avesse se fosse veramente qualcosa che viene da dio non potrebbe mai aver neppur una sola frase satanica il talmud a riti cabalistici come abbiamo già dimostrato è letto in un in un video dove abbiamo letto determinate cose determinati riti scritti per ottenere determinate cose non mi ricordo il filo rosso che chiama gli angeli i demoni gli spiriti eccetera 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 per cortesia non giochiamo ora la cabalà la cabalà viene e ci dice tante cose voi avete sentito alcuni che parlano della storia dei due adami questa viene dalla cabalà le due creazioni questa viene dalla cabalà c'è tanta gente che insegna queste cose poi mi pare che anche Eliseo Bonanno insegni queste cose qua quindi sono cose cabalistiche attenzione quindi la cabalà come la metafisica ha queste dieci parole ha queste dieci sefirotte la cabalà dice che Adamo utilizza la parola utilizza appunto torniamo un'altra volta a Socrate la parola è potenza la parola è potere quindi Adamo vede dentro la parola l'energia l'energia si trova nella parola nell'alfabeto ebraico nei nomi di Dio nei 72 nomi di Dio che pronunciando la parola praticamente la parola non è non è non è altro che le lettere ebraiche non sono altro che dei contenitori di energia quindi tutto l'alfabeto non è altro che un grande contenitore di energia ogni lettera ha un determinato potere ogni lettera ha una determinata energia quindi Adamo che cosa ha fatto ha preso questa questa energia contenuta in ogni lettera dell'alfabeto ebraico e secondo come doveva nominare diciamo qualche cosa apposta all'energia giusta quindi ha collocato le consonanti giuste per attribuire a quella cosa quella determinata energia e il cabalista scopre questo attraverso molte cose per esempio attraverso la numerologia e tanti giochetti che loro fanno con tutte queste cose quindi praticamente loro utilizzano questo ecco perché si legge si deve leggere in ebraico e si deve recitare il tutto bene in una determinata maniera per esempio nel pronunciare la parola il cabalista otterrà un determinato beneficio un determinato potere si andrà a concretizzare intorno di lui infatti il cabalista può leggere dritto o può leggere all'incontrario se il cabalista regge dritto praticamente ti recita una orazione un passo diciamo biblico eccetera 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 se praticamente questa è una orazione essendo detta recitata in maniera dritta parte da qui e va verso il cielo ma se vuole ottenere qualcosa dal cielo a qua lui che cosa fa te la legge al contrario quindi leggendo il passo al contrario lui apre i cieli e fa sì che la cosa gli venga incontro quindi capovolge diciamo il tutto è un po' quello che fa è il satanasso deturno che capovolge tutto che rigira tutto no che prende la stella e che di per sé nella stella non c'è niente di male Gesù è chiamato la stella mattutina anche noi siamo stelle nella scrittura vedi Daniele ora satana ti prende la stella e te la capovolge con la testa in giù quindi ti capovolgono tutto quindi praticamente il cabalista pone la sua attenzione il suo fondamento nella potenza cioè quello che la parola può diventare in potenza ok questa parola può diventare questo ecco quell'atto quindi praticamente la potenza adesso utilizzo questo termine come lo comprendiamo noi la potenza non si trova in Dio ma si trova nell'uomo che pronunciando correttamente quelle parole dicendo correttamente quelle parole quelle parole acquistano forza in virtù di quello che lui fa e la cosa avviene gli stessi rabbini e cabalisti perché non tutti i rabbini sono cabalisti ma diversi rabbini sono cabalisti dicono che quando si fanno le invocazioni degli angeli con la cabalà di fare molta attenzione anzi di non farli perché bisogna essere puri per farli perché quando tu vai a legare un angelo con questi riti effettivamente tu leghi l'angelo ovviamente sappiamo che sono demoni e otterrai quella cosa là ma se non sei santo se non sei puro l'angelo ti farà quella cosa lì ma poi ti ucciderà ovvero ti farà del male ecco qui che tutti quei credenti legalisti dello zainetto eccetera 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 che dicono che David Hobwar è un uomo di Dio perché predica la santità sappiate che in mezzo queste persone in mezzo questi ambienti in mezzo questi rabbini in mezzo questi cabalisti si vive una si osserva si osservano delle regole di santità molto ferre loro sono molto casti sono molto giusti molto santi molto puri eppure sono satanisti questo è satanismo facciamoci a capire quindi non tutti i satanisti sono sfrenati ma molti di loro sono uomini che sono puri sono casti eccetera eccetera ma sono figli del diavolo attenzione avvengono miracoli all'ordine del giorno nessuno nega questo la maggior parte dei miracoli sono falsi ovvio ma ci sono anche miracoli veri ecco perché Matteo 7 ci dice attenzione quando vedete un segno o un prodigio che quello non è sinonimo di veridicità ora se un miracolo non è sinonimo di veridicità quantomeno lo sarà uno uno stupidino che va in giro a dar da mangiare ai poveri avallando il suo cristianesimo amico mio non è così che tu avalli il tuo cristianesimo ma che vai cianciando ma questa è un'altra storia svergognati che negate la parola di Dio negate la trinità negate la potenza dello spirito santo eccetera 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 a voglia da mangiare agli poveri lo fanno pure i rabbini lo fanno pure i cabalisti lo fanno pure i cattolici e molto più di voi e fanno molti più proseliti di voi caproni ma questa è un'altra storia scusate ho aperto una finestra quindi tutte queste cose noi le dobbiamo conoscere bando a le charlie e veniamo a noi cosa dice la parola di Dio a tal proposito allora loro vi prenderanno come è scritto in Matteo vi prenderanno dei passi e li andranno a decontestualizzare Matteo capitolo 21 è scritto nel verso sempre 21 questo qua allora Gesù rispondendo disse loro io vi dico in verità che se se avete fede nota bene fede se avete fede e non dubitate quindi noi dobbiamo avere fede su quello che è scritto se è scritto che c'è una trinità e io non credo a questa trinità ha voglia da mangiare i poveri non mi serve a niente sarò una brava persona ma sono un nemico della parola scritta nero su bianco perché per noi vale la parola scritta non la parola orale quindi il tutto è la fede quindi non solo farete la cosa del fico ma io vi dirò che se dite se dite vedi se dite a questo monte togliti di là e gettati nel male sarà fatto ora in virtù di questo loro dicono vedi ecco qui la potenza della parola questo vi insegnano a voi ma attenzione perché tu dovresti continuare a leggere e se continui a leggere dice tutte le cose le quali con orazione richiederete credendo la fede voi le riceverete quali cose cosa chiediamo cosa chiediamo noi se sei nato di nuovo chiedi quello che c'è scritto quando dirai a questo monte gettati nel mare il monte rappresenta tante cose tra cui le potenze di questa terra che si scagliano contro di te i problemi i dolori le persecuzioni quando ti ammazzano perché sei perseguitato quando te quando ammazzano i tuoi parenti come in Cina perché sei perseguitato allora tu preghi signore aiutami e allora il signore perché molto può è scritto la supplica del giusto fatta con efficacia perché il Dio interviene laddove vuole intervenire anche Paolo pregò tre volte è scritto pregò tre volte signore diparti da me questa malattia e che gli ha risposto il signore così non sia tu ti stai inorgogliendo e quindi io ti flaggello e sei malato perché se no te perdi l'anima quindi Dio è quello che risponde Dio è la parola ecco quel punto che vogliono far passare te per Dio te per parola quando lui è la parola è scritto in Giovanni facciamo attenzione cari amici è scritto in Giovanni capitolo 1 che nel principio era la parola e la parola era presso il Dio e la parola era Dio noi non siamo Dio noi non siamo la parola noi siamo figli della parola ah sì siamo figli della parola ma non siamo la parola non bestemmiamo il nome del Signore attenzione pseudo messianici che il Signore vi sgridi grandemente che il Signore vi sgridi 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 cabalisti filosofi gnostici massoni che il Signore vi sgridi la parola è Cristo Cristo è la parola noi con orazione con orazione pieghiamo le nostre ginocchia perché crediamo e allora preghiamo e allora otteniamo quella cosa sì se è nella volontà di Dio dirà altrove non è così di la parola e la cosa avverrà ma che stai dicendo ah sì beh come va ti porto davanti un ospedale dei malati terminali vergogna che il Signore vi sgridi già questo dovrebbe bastare però andiamo avanti Giacomo 3 verso 10 di una medesima bocca procede benedizione e maledizione già non bisogna fratelli miei che queste cose si facciano in questa maniera la fonte sgorga e la una medesima buca il dolce e l'amaro cosa significa questo che le tue parole ti possono condannare ovvero ti possono assolvere se il tuo parlare è disonesto sa prova sa se il tuo parlare è disonesto ti sarà condanna se il tuo parlare è onesto ti sarà a giustizia ma da qui ad avere la potenza il potere sugli altri sulle situazioni ma che ma che ma che gioco è questo questa è un'altra cosa infatti se voi avete nel vostro cuore invidia amara con tensione non vi gloriate contro la verità non mentite noi dobbiamo dire la verità ecco qui che in noi abbiamo tra virgolette il potere di vita o di morte nel senso che se io pecco vivo il peccato ok se io che sono nato di nuovo mi metto a vivere il peccato e dico cose dico bugie attacco ingiurio flagello distruggo con la mia bocca eh amico mio ecco qui il potere della morte che io ho voluto abbracciare perché testardo perché testone o se mi metto con la mia bocca a annunciare un vangelo diverso pur facendo tutte le opere buone del mondo e avendo tutti i più grandi proseliti del mondo come alcuni che mi vengono a dire dove sono i tuoi proseliti e io già ho risposto anche se io fossi l'empio più grande del mondo dal momento in cui ti denuncio e tu sei colpevole la tua colpevolezza resterà e non sarai scagionato perché denunciato da un altro colpevole come te caso mai andremo tutte e due in perdizione ma tu seguirai me guardate quanto l'uomo privo di spirito è di spirito santo è stolto è stolto uscite fuori da questi movimenti dice il Signore nella sua parola esci fuori popolo mio da Babilonia è scritto vogliamo leggere Romani capitolo 10 famoso Romani capitolo 10 dice anzi facciamo sì no dice se tu confessi con la bocca il Signor Gesù Cristo e credi 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 andate per tu Matteo 28 andate per tutto il mondo annunciate questo evangelo chi avrà creduto chi avrà creduto e poi avrà anche agito dimostrando perché le opere la santificazione che sono le prime opere che noi facciamo le opere dimostrano che noi crediamo quando noi non operiamo stiamo calpestando la fede e quindi dimostriamo di non credere e quindi non siamo salvati o addirittura se abbiamo ricevuto la salvezza la perdiamo perché non abbiamo perseverato nella fede quindi se credi nel tuo che col tuo cuore che il Dio ha risuscitato Gesù dai morti sarai salvato quindi e questo credere porta delle azioni tra cui confessare con la bocca che Gesù è il Signore e confessare con la bocca che Gesù è il Signore comporta predicare la sua parola senza nulla aggiungere e senza nulla togliere perché se tu con la bocca confessi che Gesù è il Signore e poi annunci un Vangelo diverso non stai confessando che Gesù è il Signore ma stai annullando ovvero stai cercando di annullare il suo consiglio stai cercando di annullare la sua parola stai portando il Talmud stai portando la Kabbalah stai portando la Gnosi stai portando il satanismo ma io faccio le buone opere datele in faccia annullati Giova amico mio io ho amore mentendo hai amore? dicendo facendo dire alla parola di Dio quello che non dice scritto in proverbi che chi ama dice la verità e chi odia mente quando uno mente odia attenzione non c'è amore in lui perché col cuore si crede a giustizia e con la bocca si fa confessione a salute cuore uguale credere bocca confessione ecco qui che col cuore si crede e quindi credere è fede la fede pronuncia opere tra cui annunciare confessare vivere annunciare predicare non modificare non modificare quello che è scritto ecco dove come si muove la bocca del credente non io io decreto l'uomo il credente non può decretare l'uomo il credente prega quando ci troviamo davanti un indemoniato che il signore ci guida per lo spirito santo noi lo sgridiamo quel demone o quei demoni ma nel nome di Gesù quella è un'altra roba e lì ci si va per la guida dello spirito santo di questo già ne ho parlato benedetto il santo nome del signore ora ogni uomo dunque che mi avrà riconosciuto davanti agli uomini ecco qui riconosciuto con la bocca si confessa abbiamo letto io lo riconoscerò davanti al padre mio ecco qui come la nostra bocca agisce non io ordino io decreto io faccio io dico io pronuncio ma lui è la parola perché scritto è Genesi o non avete mai letto nel principio il Dio creò tu non crei niente la terra era deserta eccetera eccetera il Dio disse la parola disse sia la luce la luce fu tu che dici tu quello che dici avrà influenza su di te sì certo può avere influenza anche sugli altri ovviamente se parli male di tizio ci sarà una influenza su tizio cioè che gli renderai a vita impossibile ovvero se invece tizio è cattivo è malvagio è apostato e tu lo denunci bene avrai fatto e avrai come dire fatto la vita difficile a un empio bene hai fatto in questo sì ma non ha l'uomo non è creatore nel principio Dio creò Dio è creatore tu non sei creatore lascia stai cabalisti uscite fuori da questi pseudo movimenti chiunque mi avrà rinnegato cominciando dalla parola o predicando un altro vangelo tu lo rinneghi e lo fai davanti agli uomini no che se lo fai in privato cambia qualcosa ma peggio ancora io ti rinnegherò davanti al padre mio che è nei cieli non sia non pensate che io sia venuto a metter pace in terra io non sono venuto a metter pace ma spada cioè divisione mettere in discordia il figlio col padre la figliola con la madre cioè noi per difendere l'evangelo di Gesù Cristo siamo disposti a combattere contro chiunque padre madre figlio pseudo fratelli come sto facendo io in questo momento io sono contro gli pseudo messianici contro il giudaismo contro la cabalà contro gli ignosticini contro gli ignosticioni contro i massoni l'uno contro l'altro certo con la favella con la parola ma non che nella nostra bocca c'è la parola di creazione no c'è la parola di giustizia ovvero se io racconto la verità se io dico la verità se io racconto l'evangelo come esso è la parola di giustizia che mi come dire che se non è di giustizia mi condanna e se è di giustizia mi assolve perché io sono condannato da me stesso e dalle mie stesse parole dirà altrove amen santificate il signore nei vostri cuori siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore rispondere parola a ciò che laddove sparrano parola di voi come malfattori siano svergognati coloro che caluniano la vostra buona condotta amen per questo per questo si conosce lo spirito di dio ogni spirito che confessa gesù venuto in carne è da dio ecco qui la parola la nostra parola non è una parola di potenza creazionista dio è creatore dio crea noi confessiamo gesù parliamo di gesù parliamo del vero e quando dice come già detto se dirai a questo monte in matteo se dirai a questo monte gettati nel mare sta parlando dell'orazione dio opera dio fa questo dio è creatore dio è il nostro scudo e noi dobbiamo avere fede perché crediamo quello che c'è scritto ma dio altresì opera la fede in noi dio è colui che opera la fede in noi noi non abbiamo nessuna cosa di 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 creazionismo e addirittura è scritto a proposito di opera di creazionismo efesini 2 dall'otto in poi quando dice voi siete salvati per grazia mediante la fede poi dice non per opere che noi non siamo salvati per opere affinché nessuno si glori ora però noi siamo la fattura adesso essendo creati in gesù per le buone opere quindi noi non siamo salvati per opere però siamo salvati per fede ma questa non annulla le opere ma addirittura le stesse opere sono state create da dio le quali il dio ha preparate tutto viene da dio noi non siamo creazionisti ma che cosa vanno cianciando certe certe persone abbiamo un altro secondo giovanni secondo giovanni dice che sono entrati nel mondo molti seduttori i quali non confessano gesù cristo per essere venuti in carne ecco qui la parola che li condanna ecco qui che con la loro parola annunciano un vangelo diverso annunciano un vangelo diverso ecco qui la parola perché che ti che ti assolve o ti condanna ma mai che noi siamo creatori o che noi siamo dio o che noi abbiamo la potenza per dire per fare eccetera 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 anzi Matteo 12 Dio li chiama progenie di vipere quando dice progenie di vipere come potete parlare di cose buone essendo malvaggi perché dalla bocca parla ciò che soprabbonda il cuore l'uomo buono quindi la noi dobbiamo avere un cuore da Dio un cuore rigenerato è inutile parlare di cose buone io faccio questo do da mangiare qua faccio là amore mio fratello io ti amo tu non hai amore di qua e di là e poi andate a cambiare il vangelo di Gesù Cristo voi siete vipere siete sepolcri imbiancati state modificando il vangelo è scritto in proverbi lo ripeto che chi mente odia e chi odia mente quindi quando voi cambiate il vangelo mentite lo fate perché siete vipere pieni di odio l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore rega fuori cose malvagie ora gli uomini renderanno ragione nel giorno del giudizio che è un giorno solo anche di ogni parola che avranno detta oziosa hai a cambiare il vangelo di Gesù Cristo hai di voi David Ovor Thorben Sondergaard Benny Hinn Porrello Incontro Pseudo Apostoli Salamone hai di voi a cambiare il vangelo di Gesù Cristo a promuovere la Kabbalah a promuovere il Talmud hai di voi hai di voi potrete anche ucciderci a noi e probabilmente ci riuscirete con alcuni di noi pazienza se dovremo qualora fosse per dire mai dire mai mai dire mai dice alcuni dicono ma sta tranquillo che te vuoi che ti succeda mai dire mai però attenzione perché ci abbiamo qualcuno che è chiamato la via la vita e la verità egli è la nostra resurrezione Matteo 18 dice che se il tuo fratello pecca contro di te riprendilo fratellui solo se egli ti ascolta vedi la parola che tu pronunci questa è la parola che devi vivere quello che tu pronunci intanto quello che è scritto intanto leggere quello che è scritto credere a quello che è scritto che è la parola e quando tu parli devi annunciare questo e quando tu parli devi dire la verità e quando tu parli a un fratello che ha peccato contro di te lo devi riprendere con amore e con la parola in mano e questo porta delle conseguenze leggi qua se ti ascolta bene se non ti ascolta prendi te con uno due a ciò che ogni parola sia confermata per la bocca di due questo è scritto quando qualcuno pecca contro di te non in pubblico e non contro la parola di Dio ma contro di te è un'altra roba è scritto in Romani famoso Romani 3.23 che tutti hanno peccato tutti sono privi della gloria di Dio e siamo gratuitamente giustificati per la grazia d'esso lui è lì Dio creatore lui è lì Dio creatore che dice la cosa e la cosa è e sia la luce noi siamo peccatori siamo tutti peccatori tutti peccatori tutti privi della gloria di Dio siamo gratuitamente giustificati per la grazia d'esso per la redenzione che è in Cristo Gesù il quale Dio ha inanzi ordinato per il purgamento col suo sangue mediante la fede la fede produce opere le prime opere sono la santificazione la confezione in questo non si trova potenza di creazione noi non c'è come insegna la cabalà lo pseudomessianismo il talmud per mostrare giustizia dove è il vanto escluso per qual legge delle opere no anzi per la legge della fede noi dunque concludiamo che l'uomo è giustificato per fede senza le opere della legge amén il Dio è egli Dio solo dei giudei no lo è anche dei gentili certo lo è anche dei gentili poiché ve un solo Dio il quale giustificherà giustificherà la circoncisione dalla fede l'incirconcisione per la fede annulliamo quindi allora siccome è per fede per grazia annulliamo la legge no la legge non viene annullata leggetela tutta la Bibbia anzi no noi stabiliamo la legge e poi spiegherà appunto che noi viviamo la legge come se la viviamo la legge e come perché la fede produce opere cioè santificazione e le opere non rubare non furare quindi è la stessa cosa non rubare non furare non uccidere non dir male testimonianza onora tuo padre onora tua madre non ti fare i tuoi tatuaggi stai lontano dalla fornicazione dall'adulterio dall'omosessualità dai sacrifici ai bali e dall'occultismo è un comandamento della legge che devi osservare cabalà torah orale talmud e occultismo questo è l'evangelo di Gesù Cristo se lo vuoi accettare ti verrà salvezza se non lo vuoi accettare dirà la scrittura sei già condannato Gesù ti ama è una verità biblica non è vero che non bisogna dirlo è scritto Gesù ti ama a me volete che vi dico dove sta scritto Romani 3,16 Gesù ti ama è scritto quindi va detto no che non va detto per cortesia non fatemi sentire queste sciocchezze Gesù ti ama è una verità biblica a fianco a questa verità biblica ce n'è un'altra che l'ira di Dio è sui peccatori ecco qui chi è da una parte abbiamo Gesù ti ama dall'altra parte abbiamo l'ira di Dio è su di te una verità biblica non combatte contro un'altra verità biblica le due camminano di pari consentimento Dio ti ama per questo ha mandato il suo nigenito figliuolo perché ti ama quando eri un peccatore e in virtù del suo amore tu possa uscire perché la giustizia di Dio ha detto condannalo l'ira di Dio ha detto condannalo distruggilo ma l'amore di Dio ha mandato Gesù e ha detto salvalo quindi Gesù ti ama e la giustizia di Dio è su di te ed è ira esci fuori dall'ira di Dio ed entra nella grazia di Dio in Cristo Gesù nel suo amore Gesù ti ama cosa farai davanti all'invito di Cristo Gesù in questa giornata tu decidi preferisci la gloria degli uomini o magari non avrai tanti amici non avrai tanti sostenitori avrai molti nemici bene questo è l'Evangelo persecuzione travagli prove tribolazioni essere crocifisso in Cristo Gesù crocifiggere la propria carne questo è l'Evangelo di Gesù Cristo per ottenere vita e salvezza eterna nell'unico nome che ci è stato dato fatti degli apostoli 412 e non ve n'è un altro Cristo Gesù perché il Padre ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo Gesù Cristo affinché chiunque tutti chiunque creda in Lui non perisca ma abbia la vita eterna grazie per essere stati qui con noi in questa mattina con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti il Signore ti benedica possa lo Spirito Santo toccare il tuo cuore vado a renderlo pubblico l'ho fatto in streaming privato ok c'entra streaming sì ok perfetto bene la pace sia con tutti voi Shalom grazie a tutti